La delibera di giunta è immediatamente esecutiva. Il Comune di Olbia procederà allo smantellamento di 5 ecobox. Lo aveva annunciato il Sindaco Settimonizia e i nostri microfoni solo pochi giorni fa, indicando nel mese di giugno l'eliminazione di quelle isole trasformate da ecologiche a discariche. Via dunque gli ecobox del Molobrina, Olbia Mare, Via Veronese, Base e Sticadeddu, gli avvisi di rimozione segnaleranno la possibilità di conferimento dei rifiuti nell'ecocentro comunale. La decisione della giunta Nizi solleva più di un dubbio tra le fila del gruppo consigliare del PD. Per la capogruppo, Ivana Russo, la rimozione degli ecobox senza offrire soluzioni alternative potrebbe aggravare la difficile situazione in città, che non interessa solamente il perimetro delle aree interessate, ma, indica la Russo, anche il centro, le periferie, le frazioni e perfino l'agro. Per l'esponente del PD l'ecocentro di zona industriale non sarebbe sufficiente a colmare le esigenze di una città turistica in costante crescita demografica. Parere condiviso dal segretario cittadino del PD Pietro Spano. Nella delibera proposta dall'assessore all'ambiente Antonella Sciola vengono evidenziati i numeri che hanno portato l'esecutivo cittadino a smantellare gli ecobox. Troppi i rifiuti conferiti rispetto alle capacità reali, troppi quelli abbandonati all'esterno e che andrebbero smaltiti diversamente, e troppo il costo di svuotamento, lavaggio delle aree rimozione degli ingombranti che supera il milione di euro l'anno. La delibera non convince tutti i cittadini. Alcuni, alla diffusione della notizia, hanno lamentato la scarsità di cestini per i rifiuti in molte aree della città, così come l'eliminazione di alcuni servizi, tra i quali la raccolta a domicilio degli sfalci, senza un corrispondente taglio della tassa.